Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di ManuSport 07 Siamo qui con le pagelle di Juventus Genoa 3 a 1 Partita che ha visto la Juventus vincere la seconda gara consecutiva in campionato Non è servita a niente perché hanno vinto anche Atalanta, Roma, Napoli, Lazio, Milan e Inter Quindi praticamente tutte le big hanno vinto Per il resto comunque si è vista una buona Juve, una buona Juve a tratti Adesso ne parliamo, ricordo che è già uscito il video dove parlo della partita in generale Qui invece si va a parlare dei singoli, si va a parlare delle pagelle Ringrazio il buon Antonio per le clip Noi non ci perdiamo in chiacchiere e partiamo subito col video Vamo ragazzi E come non partire se non dal nostro portione Bojack Cesni che si porta a casa un bel set ragazzi Quindi ottimo Cesni, si porta a casa un set Nulla da dire, insomma si doveva riscattare in qualche modo Per la prestazione con il Torino, per quella paperella che ha fatto Quindi si porta a casa un set comunque più che meritato E quindi fa delle belle parate Mi ricordo quella in uscita su Scamacca e ridosso dell'intervallo Mi ricordo quella su piazza nel secondo tempo Per il resto mi ha trasmesso sicurezza almeno a questa partita Quindi un set a casa se lo porta Ed è anche sicuramente tra i migliori del match Avendoci salvato comunque il culo in più occasioni A volte viene sottovalutato però Sinceramente le paperelle iniziano a diventare un po' tante Ma comunque se andiamo ad iniziare a questa prestazione Si porta a casa un set Se invece per De Ligt è vero che commettono una leggerezza Ma è anche vero che quando si commettono questa leggerezza Ragazzi dobbiamo anche vedere chi ha perso il pallone Per darla al Genoa Dobbiamo dare la metà della colpa a lui Chi ha procurato il calcio d'angolo Si dà anche metà della colpa a lui Ragazzi De Ligt è solo un terzo delle colpe Se andiamo a ragionare in quest'ottica Quindi sì Probabilmente sarà maggiormente colpa sua Però per il resto della partita è veramente geniale Considerato che fa la terza partita in sette giorni Quindi Terza partita in sette giorni anche per Chiellini Che si porta un sei Si gestisce Però non è più il Chiellini di un tempo Si è fatto saltare la piazza come un ballerino Quindi insomma Secondo me può fare di più Io l'avrei gestito meglio Soprattutto perché è tornato De Miral De Miral Gli ultimi venti minuti Sia oggi sia col Napoli Secondo me si poteva pure inserire Correggetemi se sbaglio Però De Miral Poteva sicuramente essere inserito Quindi cinque e mezzo Per Giorgio Nechiellini E spero per lui Che vada a riposare Perché insomma Ne avrebbe sicuramente bisogno Comunque a casa si porta un cinque e mezzo Bene anche Danilo Che è il man of the match Sette e mezzo per lui Come al solito garantisce sicurezza in difesa Questa partita mi ha garantito più sicurezza a lui Di Chiellini e De Ligt Ha trovato il vizio della fase offensiva Nelle ultime partite Sia a destra che a sinistra Sta andando veramente bene Questa partita invece fa l'assist Quarto assist stagionale ragazzi Sta facendo veramente una stagione di Cristo Un gol e quattro assist Per un terzino comunque E tanta roba Per un terzino che fa il terzo di difesa Per un terzino che in fase di Quando avanza Non è lui quello che avanza Secondo me lo avrebbe potuto fare meglio Avrebbe potuto fare meglio Comunque ieri Per quanto riguarda lo score Comunque ieri si porta a casa un sette e mezzo Perché fa veramente una partita di Cristo Benissimo anche Quadrato Che si porta a casa invece un sei e mezzo Il discorso ragazzi è sempre quello Lui fa il terzino Avesse fatto all'esterno ieri Le avrebbe dato magari anche un sette meno Però sei e mezzo Comunque fa l'assist Si propone di qua e di là Poi si capisce che è stanco Anche lui soffre la terza partita in sette giorni E comunque deve in qualche modo rifiatare E lascia il posto ad Alessandro Sei e mezzo invece per Rabiot Rabiot che porta a casa un'altra buona prestazione Quindi ottimo Rabiot Ha trovato anche il vizio della fase offensiva Sta crescendo sempre di più Certo un po' tardi Dopo due anni ormai Dovrebbe già essersi abituato Ora si è messo nel ruolo di regista Lo sta facendo anche abbastanza bene Vediamo un po' quello che succederà Però insomma per il momento Ora più Sono un bel po' di partite Che si porta a casa la sufficienza Anche l'unico centrocampista Che è sempre praticamente a disposizione della squadra E quindi Si porta a casa anche oggi Un ottimo voto Perché comunque un centrocampista Che in fase offensiva Crea superiorità numerica Malino invece è Bentancur Che si vede tanti passaggi Però anche per lui È la terza partita in sette giorni ragazzi È la terza retitolare in sette giorni Quindi paga sicuramente Leggermente la Magari la stanchezza Anche diciamo Dovuta Proprio a questa statistica qui Però per il resto Riesce ad usarsi bene Non fa particolari danni Come magari lui Solo lui li sa fare Quindi La sufficienza a casa per me Se la porta Perché Sa impostare È l'unico che sa verticalizzare Secondo me dovrebbe Usare un po' di meno Quando è stanco Mentre quando è al top della forma Dovrebbe magari usare un po' di più Perché il centrocampista che abbiamo È il migliore a verticalizzare lui Sicuramente Questo è un dato rifatto ragazzi Sette meno per Kulwiseski Una partita in qualche modo Schiaccia crisi per lui Diventa un po' troppo prevedibile Perché sono cinque gol Che fa in stagione Con cui ci sono sei Però di cui cinque Fatti praticamente Alla stessa maniera ragazzi Quindi insomma Deve un po' curare Questa imperfezione Però per il resto Potrebbe anche fare il secondo Potrebbe anche fare qualche assist Spreca qualche chance Però per il resto L'ho visto molto più in palla Rispetto Alle ultime Alli ultime uscite Quindi bene Kulwiseski Che in qualche modo Si riscatta E diventa quindi Una valida opzione Per questo finale di stagione Per la rincorsa Alla Champions League Un 7-0 se la porta a casa Anche se sicuramente Non è il man of the match Non è il man of the match Nemmeno Chiesa Che comincia veramente Alla grande Strappando un pallone Con la grinta Che solo lui Sa fare Non è la prima volta Che strappa Pallone all'avversario In questa maniera Quindi Super Chiesa Si invola verso la porta Si divore in qualche modo Il gol Anche se poi Se ne ha Morata Quindi il gol di Morata È sicuramente viziato Delle sue giocate E poi altre due occasioni Dopo si divora un altro gol E sbaglia Perché aveva Morata E Ronaldo Non l'ha passata Nessuno dei due Ha sbagliato Completamente il tutto E quindi poteva fare Leggermente meglio Quindi per il resto Tutto complesso Qualcuno ha anche Rosato a dargli 5,5 Però per me La sufficienza a casa Se la porta Perché comunque Ha fatto anche delle cose positive Soprattutto nei primi minuti Dove la Juve È proprio lì Che è passata in vantaggio 6,5 per Morata Meglio rispetto Alle ultime uscite Forse il fatto Che è tornato Di Bala L'ho un po' più stimolato Anche se Di Bala Secondo me Portirà a titolare Contro l'Atalanta Cala un po' Diciamo Nel finale di gara Ma comunque Penso sia normale Però insomma Ho rivisto un Alvaro Morata Che sta facendo bene Fa tante sponde Quindi in qualche modo Si porta la bagnotta a casa Ragazzi Quindi un buon 6,5 Torna il gol Sono 17 in stagione Ragazzi Che comunque Non sono pochi Se dovesse arrivare a 20 Sarebbe un attaccante Di calatura internazionale Per me Ed è anche al servizio Di Ronaldo Ronaldo che ieri Non capisco Perché si incazzi così Con che si incazzi Con se stesso Ma girano voci Che si è incazzato Con Chiellini e Chiesa Per dei paroni sbagliati Per l'atteggiamento sbagliato Di quello si può parlare Ma l'allenatore Non sei tu Tu fai il calciatore Vieni pagato 30 milioni l'anno E vai in campo per segnare Se la squadra C'è una partita Dove non gioca troppo per te Cazzi tuoi Ti sei mangiato un gol A porta vuoto Potevi pur segnare Quindi non rompere i coglioni Ma basta Ronaldo Cioè veramente così Quando fa così È insopportabile Comunque se dobbiamo andare A giudicare solo la partita Alla fine il 5 e mezzo Se la porta a casa Potevo anche dargli il 6 Perché comunque Qualche occasione bella L'ha creata Si è posizionato bene Però comunque Quel gol a porta vuoto A mangiato Pesa tanto sul voto E quindi le do 5 e mezzo 6 per Alexandro Che torna E fa meno danni del solito Quindi insomma Fa un 6 Dà ottima copertura in difesa Dà anche una Non anche riscoperto Si vede 5 partite all'anno Offensiva E lo abbiamo visto tutti Quindi meno male per lui Quindi nel complesso Il 6 se la porta a casa Sicuramente Però c'è anche da dire Che io lo venderei Perché ragazzi Prende 10 Sufficienza all'anno Su 40 partite che fa Quindi insomma Io lo venderei Perché alla fine Una buona valutazione Di almeno 25 milioni Ce l'ha E poi monetizzarci Perché con 20 milioni Ti prendi un terzino Che fa praticamente Le sue stesse prestazioni Almeno secondo il mio punto di vista 6 per Paolo Di Bala Altro subentrato 6 dove l'ho letto 6 e mezzo Per Paolo Di Bala Che comunque Anche da subentrato Questa volta È ancora alla ricerca Del miglior ritmo Della miglior condizione possibile Quindi due partite Da subentrato Fanno bene Comunque con il gol a Napoli Ha una media goal in Serie A Che non è neanche Che Che non è neanche Troppo lontana Da quella di Morata In realtà Quindi insomma Non la stessa media goal In Serie A Cambia qualcosa Per la Champions League Però insomma Se andiamo a vedere La media goal Lui non è troppo lontana Dalli standard Dello spagnolo Comunque Alla ricerca di ritmo E condizioni Ed è pronto per la titolarità Contro l'Atalanta Bene anche McKennie Anzi perfetto Non è la prima volta Che da subentrato Fa la differenza Abbiamo scoperto Un bel centrocampista Con ottima dose realizzativa Però lui È riconosciuto Per essere un CDC Cioè nel senso Un centrocampista difensivo Non offensivo Che poi ha fatto 6 gol Sicuramente Anche delle doti offensive Un centrocampista Assolutamente completo Moderno Come magari Voi piacere appirlo È un'ottima mezzala Per me Una mezzala Veramente moderna È perfetta È un sostituto Perfetto di che tira Però insomma Ragazzi Bisogna metterlo Titolare per me E cercare di sperimentarlo Per me in più ruoli Quindi Pirlo Ha questo l'improvero Il fatto che Si ostina con questo 4-4-2 Non prova Sto cazzo di 4-3-3 Che secondo me È il modulo migliore Per la Juventus Ma soprattutto Per l'atteggiamento Che mostra la squadra Inizio ripresa Un problema non risolto La Juve rischiava Seriamente di prendere Il 2-2 È una squadra Che finché Non trova il 3-1 È in bilico Sempre Ogni tanto Alla paura Quindi insomma Ragazzi Chiellini che si fa saltare La piazza La difesa che cala Di intensità Su tutti i discorsi Che comunque Rimano a diminuire il voto Anche se una vittoria Ottenuta quasi in leggerezza Dunque sei per Pirlo Detto questo ragazzi Il video termina qui Spero che il video Vi sia piaciuto Se ti è piaciuto Lasciate un mi piace Caso controllare un dislike Commentate se siete d'accordo Se siete d'accordo Se siete d'accordo con me Se non è ancora fatto Iscrivetevi al canale In descrizione Link per assicurami su Instagram Da MonoSpoly07 È tutto E noi ci vediamo In un prossimo video Bella ragazzi